Questi qui sono i giorni più terribili dei 78 anni della storia della C. Cesena, qual è il suo pensiero? Io sono da 40 anni tifosi del Cesena, penso che abbiamo toccato il fondo e il Cesena e i tifosi del Cesena non meritavano una fine così ingloriosa. Penso che siamo in mano a dei dilettanti allo sbaraglio proprio. È brutta come situazione, la gente sta venendo, sta chiedendo il rimborso, c'è chi proprio dà una dritta tassativa nel senso che dice basta io col Cesena ho chiuso, c'è chi nonostante dice che nonostante la categoria ci vedremo perché io verrò comunque a fare l'abbonamento ed è bello comunque perché vedi il tifoso vero in questa situazione. Poi ci andrei comunque a vedere la serie D, però non so chi potrà subentrare, non ho idea di tutto. Un giorno molto triste perché dopo 7 anni di abbonamento venire qua e disdire l'abbonamento è una cosa che ti stringe veramente il cuore, poi con una salvezza che è arrivata come quella di oggi è veramente una cosa triste. Non meritavamo un trattamento del genere, le cose dovevano essere chiare prima. Pazienza, comunque si tifferà sempre Cesena qualunque sia la sua categoria. L'Ugarese ha presentato comunque l'iscrizione alla serie B. Questo non lo so, sono affari burocratici che purtroppo a me non mi competono, lo sanno loro quello che devono fare, però penso che l'agonia sarebbe solo rimandata. Visti i debiti, non so, credo che non ce la farà.